Tanto con manga io sicuro vengono fuori altri discorsi, perché dobbiamo aprire il pacchetto e dentro ci sono le carte, le Pokémon. Ci sono dentro i fumetti giapponesi di cui stiamo parlando anche adesso, quindi sicuramente ci saranno altri spunti interessantissimi di discussione. Ora iniziamo. Vi devo far vedere la nuova cartolina che ha fatto la nostra Giulia, è bellissima la cartolina. Scusate, stanno ancora cadendo cose dalla schifania. Non sono impazzito, è che ho un po' di difficoltà a dire le parole. Fatemi bere un sorso d'acqua.